Abbiamo lavorato molto per la partecipazione a questo bando e siamo molto soddisfatti che oggi a distanza di quasi tre anni siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento classificando il Comune di Nole in una posizione importante al 143esimo posto che ci ha consentito appunto di ottenere 1.700.000 euro che saranno spesi per la ristrutturazione, il restauro e la riqualificazione di un importante edificio storico comunale, Casa Perotti. Non possiamo nascondere ovviamente la nostra soddisfazione per queste risorse che arriveranno sul nostro territorio e che costituiscono un importante tassello per la riqualificazione urbana del centro storico. Il pregio di questo bando ha appunto il vantaggio per il nostro territorio di rilanciare dal punto di vista culturale, storico ma anche dal punto di vista sociale un'importante fetta del nostro centro storico. Prevediamo infatti di poter collocare all'interno di quella struttura una serie di servizi dedicati sia alla riscoperta storico-culturale del nostro territorio che riguardanti anche invece i giovani per i quali crediamo moltissimo e stiamo cercando di puntare molto delle risorse di questo comune e oltre tutto questo intervento ci consentirà anche di inserire un progetto sociale quindi dedicato a un punto di ascolto per soggetti con disagio sia giovanile ma anche familiare che sarà gestito da parte dei servizi sociali del nostro territorio insieme con le associazioni che sono sede presso il comune di Nole. L'intervento di restauro e di recupero di Casa Perotti sarà avviato al massimo tra una decina di mesi in questo lasso di tempo ovviamente dovranno essere concluse le operazioni di progettazione definitiva e esecutiva e si dovrà quindi procedere alla stesura della gara d'appalto. Per noi rappresenta ovviamente fonte di soddisfazione riuscire ad avviare questo intervento proprio per dare l'esempio di come una pubblica amministrazione possa dare rilancio a tutta una serie di aspetti sociali, culturali, storici ma anche di tipo economico. Crediamo infatti che insieme all'intervento di riqualificazione dell'edificio si possa attuare anche un recupero del giardino storico e la possibilità di realizzare eventi di varia tipologia che siano in grado di attirare cittadini e anche visitatori non solo nolesi. L'altro intervento sicuramente molto importante per la storia di questo comune è rappresentato dalla ricostruzione della nostra storica torre civica campanaria che crollò ormai nel lontano novembre del 2006. Dopo tutti questi anni, finalmente, grazie a una collaborazione intensa, maturata insieme alla soprintendenza di Torino siamo riusciti a far partire questo intervento che prevede la ricostruzione nelle sue forme, nelle sue sagome, nella sua imponenza della torre ormai crollata. Avrà un'altezza di 40 metri, come la torre precedente e avrà uno stile che richiama esattamente quello della torre che ormai non c'è più. Insieme a questo intervento sarà attuato un intervento di riqualificazione della piazza e di tutto il centro storico per il quale prevediamo un rilancio in termini architettonici e urbanistici insieme alla previsione di una serie di interventi di incentivazione alla ristrutturazione delle case e dell'abitazione dei privati. La torre è sicuramente rappresentato e tuttora rappresenta ancora l'identità del nostro territorio e del nostro comune. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, questo non lo nascondiamo ma siamo contenti che tutti i cittadini abbiano sempre insistito affinché si potesse procedere alla ricostruzione della torre campanaria. È il simbolo del nostro paese, richiamato in tantissimi atti, in tantissime riproduzioni e quindi siamo assolutamente convinti che questa operazione restituirà una forte identità al nostro territorio.